Nel recupero valido per l'undicesima giornata i Biancazzurri pareggiano per 1-1 al Civitelle contro i padroni di casa dell'Olimpia Agnonese. In vantaggio i padroni di casa con Barbato, Minnozzi pareggia per i Terramani. Prossimo turno, sempre in terra molissana, vedrà la truppa del presidente Brocco impegnata contro il Campobasso, capolista, calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo una fase di studio sono i molissani a portarsi in avanti, Bartoli scambia con Pincelli, splendida azione della squadra del presidente russo che trova Barbato il rigore in movimento del numero 8 e perfetto. Sblocca il match, sempre i Granata sfiorano il raddoppio qualche minuto dopo ma Tankulic scivola da posizione più che ghiotta. Il Pineto risponde al ventesimo, Cercelluti, Minincleri, tacco l'illuminante per Minnozzi che trova solo il montante alto a negargli il gol. Poco male per il numero 17 che trova il meritato pareggio, una manciata di minuti dopo. Sempre l'ex Tolentino dà il cuore dei 16 metri di avversari, non può sbagliare. Nella ripresa le due compagini provano a superarsi a vicenda, prima Sapone sprecato banalmente, poi gli Adriatici ancora con Minnozzi non riescono a sfruttare un'azione in piena area ospite. Alla mezz'ora ci prova da costa sul calcio piazzato, il pallone sorvola, la traversa, i grifoni alzano i giri del motore. Ammaia penetra in area a Mercorelli, di piede salva i suoi. Risposta adriatica arriva da un calcio di punizione e la pennellata di Bugaro non trova la deviazione di nessun compagno. Ben appostato non succede più nulla, Olimpia Agnonese e Pineto si dividono per 1-1 la posta in palio. Sinceramente a me non mi è piaciuto neanche il primo tempo, oggi abbiamo sbagliato l'approccio, siamo stati poco cattivi, poco lucidi in fase di possesso. Abbiamo incontrato una squadra che oggi aveva più fame di noi e questo mi dispiace perché noi puoi giocare male, puoi giocare bene, però l'atteggiamento non lo possiamo sbagliare. Sai, non so, forse abbiamo preso sotto gamba la partita, non lo so, abbiamo visto la classifica e questo è l'errore più grosso che potevamo fare. Però c'è di alzare la testa perché venivamo da un momento positivo, ci sta un passo falso e dobbiamo essere bravi adesso a cancellare subito la partita di oggi con l'Agnonese e pensare subito al campo basso. Sì, risultato di spicco sì, tre punti non li abbiamo presi, però signori oggi diciamo la verità, era un po' Davide contro Golia. Se guardiamo le aspirazioni delle società e delle squadre, differenza enorme dal punto di vista della carta. Se andiamo a vedere i giocatori che hanno loro, i giocatori che abbiamo noi, la struttura della società, sì, i tre punti noi li volevamo, però insomma questo punto ce lo teniamo stretto e felici anche della prestazione che hanno fatto i ragazzi.